E' giunto il momento di una nuova challenge, siamo tornati ad essere un'unica squadra Una sfida ad alta quota, ci attende Attenzione, ce l'ha fatta Ci sta riprovando Ce l'ha fatta Ci sta riprovando Vai però, vai dritto Vabbè, ma questo è il passaggio del secolo, non hai capito? E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, e che sei giocato in GTA 5 E siamo tornati con le nostre sfide Questa volta, come potete vedere, avremo bisogno di un elicottero Chissà perché, vero? No, no, ma ho mai avuto tanto paura di fare un intro C'è l'elicottero che si muove un pochettino tutto il tempo Ho paura di schiantarmi, infatti se no ti sta già facendo fumo Perché non è sicuro Comunque, oggi abbiamo una challenge davvero particolare Come sempre, cambiamo sempre totalmente lo stile di queste sfide Oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare con l'elicottero Ci chiamano al telefone Mentre dobbiamo passare con l'elicottero in mezzo alle paleoliche Ovviamente quelle che si muovono E perché io ne ho visto alcune ferme Se mi entrate ne ho fatto Ma valgono anche quelle ferme? Quindi ci passi dritta Voglio dire una cosa Per quanto sono scarso a guidare gli elicotteri Secondo me esplodo anche su quelle ferme Infatti sto sospirando Perché io faccio davvero schifo a guidare gli elicotteri Cioè con la tastiera e il mouse fa davvero schifo Dovremo avere un joystick che al momento non abbiamo Esattamente Allora diciamo tutto il resto Ci mettiamo in gioco 500.000 dollari Però li potremo utilizzare soltanto per il nostro club Il club dei motociclisti Ci sono sia le migliorie ad esempio il garage E la zona con le armi Eccetera Sia possiamo mettere altre attività Quindi sarà una nostra scelta Vedremo un pochettino nel prossimo episodio dell'online E decideremo questo punto di vista Esatto Quindi ovviamente non siamo uno contro l'altro Dobbiamo riuscirci uno dei due Per aggiudicarci i soldi per il club insomma Tre tentativi a testa Passare in mezzo a otto pale eoliche Secondo me per due volte di fila falliremo La challenge Allora non abbiamo messo dieci Perché abbiamo pensato che dieci sarebbe stato impossibile Io ho un'idea Non ci ho mai provato Quindi magari può essere anche semplice dopo che ci provi Come potrebbe essere impossibile Non ne ho idea Ti conviene iniziare dall'altra parte secondo me Perché quindi è solo una Mentre lì dietro invece Sì però siamo al contrario nel caso Quindi aspetta Dobbiamo fare tutto il giro Non ce la faremo mai Lo so lo so Cioè qui o ce la fai tu O io non ce la farò mai Cioè guarda quanto fumo stiamo già perdendo Ma sta per esplodere secondo te Sì prima o poi penso che non è esplodere da solo Allora Sì perché l'abbiamo rubato sto elicottero Cioè da dire questa cosa Sì 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 Vabbè non ne abbiamo Siamo poveri Che ci vuoi fare No provate anche a comprarlo Ma costano tantissimo Cioè dai due o tre milioni impossibile Vabbè vai 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 Sei pronto? Quello non mi piace Perché ho una scala dietro Dai ma scegli ne una però È il momento Ma sei troppo in basso C'è una? Finita? Sì fatto No però Non siamo esplosi Non è esploso Finché non esplodiamo vale Ok Allora aspetta che voglio Vai a fargli un'altra? Sì Un attimo Una Ok siamo a uno Ok Passare lì sotto non è stata una buona idea mi sa È difficilissimo Lo so Vai Ok Una Aiuto Sono indecisa se andare piano piano Se andare a massima velocità Ma come devi andare veloce Senza pensarci Prima lo fai meglio eh Uh Due Fai il rischio di morire anche senza provarci Perché ce ne sono in mezzo ovunque Vado Non si sta più muovendo bene l'elicottero E' notato? Ah E infatti Tre Due e mezzo Due e mezzo Due e mezzo Due Due Che tristezza Pensavo che arrivassi Mi stavo già capito gasando Ho detto cavolo Ma ne fanno anche dieci Sì sì Credici Invenziamo bravissimi Io stavo solo pensando Mi sa che attacco il joystick Perché è impossibile Però Continuiamo così Allora aspetta che ci chiamo un elicotterino Questa è la nostra tattica per gli elicotteri Praticamente chiamiamo Meriwether Ci facciamo fare il passaggio in elicottero Viene un poveretto a prenderci E noi lo ammazziamo E costa mille dollari ogni volta Sto diventando Invece che fare i soldi con le challenge ne perdiamo Li stiamo perdendo Poi contando che neanche vinciamo Non va benissimo Nel mentre facciamo vedere i tuoi nuovi vestiti E sei con un filtro di Instagram arancione Perché io gli occhiali da sole Quindi vedo tutto arancione Ah ok Quindi per essere un po' più cool Esatto Dai sono molto fighi Gli ho pagato un sacco di soldi Lo so è meglio che non lo dici Perché praticamente ero arrabbiata Che non mi faceva spendere soldi Io sono entrata di nascosto E ho comprato È un completo questo Non è che li ho abbinati Io ho dato tipo 150.000 Però mi sono scelta la collana Abbiamo un problema Non posso guidare l'elicottero Sono tristissima No io vi spiego Ci va sempre tutto bene Perché se no Secondo me Poi pensano che io ho questa sfiga Ma la invento pure Ok Io praticamente col Black Friday Ho preso sta tastiera La voglio far vedere bene Addirittura Meccanica Però siccome me l'ha comprata Steph Non si è reso conto Che è una tastiera con i tasti americani Quindi non ha Nelle lettere accentate E nemmeno il numpad Cioè tutti i numeretti qui al lato E ovviamente l'elicottero Si Come si dice Si guida con Was Esatto E numeretti Io non ho i numeretti Non posso guidarlo Vai No non è una buona idea Non è una buona idea Ok Una Una Che faccio incredibile Ti dicevo sono molto triste Perché ci volevo provare Peccato Peccato Ti faccio provare dal mio pc dopo Ok due Vai Oh yes No 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 Non perdere il controllo Che questo non è giusto Non è giusto questo Però non vale Allora vai in un'altra che si muove Ok qua E stai attento ai tralici Accidenti Vai Non me l'aspettavo Lì ad attendermi Vai Ce la fai No Come hai fatto Era impossibile Perché se tu vai per sbatterci In realtà poi non sbatti Ho scoperto questa cosa Dici che devi andare proprio impavido Drittissimo Sappi che è tutta fortuna Cioè se ne facciamo otto È una coincidenza Che io otto volte non l'ho toccato Te lo dico Ok Ok Quattro Ho paura Ne mancano altri quattro Abbiamo già il fumo Incredibile Esatto Quindi un altro errore Ci fa esplodere Ma secondo me è normale Col fumo Sì sì Saremmo già esplosi Dai quindi vai Non mi devi disturbare Al telefono Ci stanno chiamando Per dirci che abbiamo Più scorte col club Eh l'ho capito Non mi interessa Però ce l'ha già detto Quattro volte Eh l'abbiamo capito Ok vai Questo No io non ci credo Che continua a chiamarci Ci sta rovinando la challenge Ok Ok La prendo in pieno Oh Cinque Cinque Ne mancano tre Ne mancano tre Ok Vai È mio È mio ce la posso fare Dai Dai te ne mancano solo due Non puoi perdere Oh Sei Oddio La prendo in pieno Sette Come hai fatto Ho sudato freddissimo Perché sono andato un po' di lato Invece che esplodere Ha solo raschiato l'elica Eh ho notato Ho notato Abbassati e fai l'ultima Dai Vai giù Ok Vai Vai l'ultima L'ultima non puoi sbagliare Ok Dai Dai L'hai presa in pieno però Com'è che prima siamo esplosi Quando l'hai toccata Perché le sto iniziando a colpire di lato Ti dico una cosa Avevamo detto dieci Dai Facciamone dieci Ormai andiamo Ti prego Numero tondo Nove Fai l'ultima No Oh Dieci Voglio anche l'undici Oh sì Ero passato Ero passato Ero passato Dai Alla undicesima ci sta Alla undicesima ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ti dicevo Praticamente Se tu Quando ti sta colpendo L'elica La paleolica Metti un po' di lato Raschia Ma non ti dà il colpo Ah hai trovato i modi Ok Perché visto tipo adesso mi ha colpito secco Mi ha fatto girare Capito Eh ragazzi io sono Fereniki Attento al treno Non ci provare guarda Stai zitto Ah come accidenti Ah ok così sì Eh vabbè Settaggi di microfoni I colori I luci Tutto diverso Però volevo far provare A Fereniki Almeno una volta Perché abbiamo la polizia Scusami Eh sai Li abbiamo fatti un po' arrabbiare A furia di uccidere i piloti Sì 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 No è impossibile guidarla Cioè ma scherzi Non so Perché è tutto storto Devi usare il 5 Cioè l'8 Scusami Per impennarti in avanti E andare dritta Vedi E quindi tu dovresti Con W Eh ma allora no È impossibile Cioè con W Andare avanti Con 5 E l'8 Regolare l'altezza W Ed S Regoli altezza Sì vabbè 8 e 5 Regoli Sembra un codice Per qualcosa di strano Lo so Vai Vai bravissimo Ok Andata E poi è andata Vedi che sei brava Vedi Che quando vuoi Anche tu ti riesci Cosa vede un consolino Nello specchio della webcam Un'altra webcam Un'altra webcam Bellissimo Così inutile Allora aspetta eh Devi guardarmi Che se no non ha senso Non riesco neanche a scendere Con sto cosa Allora andiamo in questo Aspetta 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 Ma non ci sono Come fai a scendere Con la S Eh l'ho capito Ma non scende Vai in avanti Guarda sto premendo solo S E lui va avanti Eh un pochettino Però scendi pure Capito Ma fa schifo E te l'ho detto Comandi per i veicoli Fanno davvero schifo Eh già Allora aspetta Devo fare un giro Ok va bene Va bene Io sono qua tranquilla Ti sto aspettando Non sto facendo nulla di male Nella tua postazione Sono carino Mi stai rubando anche i capelli Io ho tutta la serie di capelli Lì che uso per il video Ah non sono altri? Eh l'altro forse l'ho conservato Ah peccato Ne ho tipo tre diversi Capite? Attenzione Sono fatta Ci sta riprovando Sono fatta Ci sta riprovando Vai però Vai dritto Vabbè Ma questo è il passaggio del secolo Non hai capito Non hai capito Tutta fortuna però Tutta abilità Sono nata per guidare gli elicotteri Nelle faleoli Allora Parcheggia l'elicottero Scendi Ti prego Con calma Guarda io sto premendo solo S E lui va da altre parti Lo so È terribile al pc Te l'ho detto Ok Ok Potevi fare un po' meno brusco Ricambiamoci E voglio fare un'ultima cosa Se mi sta ancora chiamando Finalmente sono tornata al mio posto Ho cattive notizie L'ho capito che abbiamo finito la produzione Stai zitto però Cioè Cioè ha bisogno di avvisarsi ogni due secondi Sette volte me l'ha già detto Vabbè Secondo lui non lo capisco Perché vuole le nuove scorte A me non ce l'ho voglia di prendere L'abbiamo capito Ma adesso siamo impegnati in una challenge importantissima Esatto Devi capire Devi smettere Ok Sai cos'è l'ultima cosa che voglio fare? Mh Atterrare nel treno E vabbè Di qui passa il treno Voglio provare Sì l'abbiamo visto poco fa Vediamo Hai un minuto No Non ce l'ho Ti chiudo il telefono in faccia Adesso ti schianterai malissimo Me lo sento No 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 Ce la faccio Sta squillando il tuo telefono Mi distrae Davvero davvero Non farmi distrarre Siamo storti? Scendi Scendi Sì vabbè Sì vabbè Sarebbe giusto giusto Non so se me la sento Aspetta No ce la devi fare Se fai anche questo I 500 mila sono assicurati Ce li meritiamo proprio Vai Vale Ti ho detto lo spazio che c'è in mezzo E ho Che te devo dire Vai 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 Ce la fai Ce la fai Vai Andata 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 Non è molto stabile Ma è andata No c'è Datemi una medaglia Stiamo dando spettacolo con gli elicotti Stiamo dando spettacolo No 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 cosa sta C'è Dove è via Ok Ok Tutto a posto Ok ok Hashtag Steph Il campione degli elicotteri Un po' troppo lunga no? Eh lo so Un po' vanitosa no? Parla a quella che ne sparai tutti i colori Ma le mie sono giuste Cioè Allora Grazie a me ho raggiato 500 mila dollari per il club Sarei interessante Ma ha terrato da solo Non ho cliccato nulla Ma che succede oggi in questo gioco? È la macchina che ti guarda male Dicevo Sarei interessante vedere un po' Dove tutti li possiamo spendere Allora Abbiamo deciso bene Praticamente abbiamo gli interni del club per cambiare esteticamente tutti gli interni Il dipinto che c'è fuori in murale è presente? Anche quello? Puoi cambiare anche quello e migliorarlo Puoi mettere un simbolo alla crew Puoi C'era di sicuro la cosa delle armi Di sicuro il garage più grande Insomma davvero tante cose La cosa delle armi è interessante La cosa delle armi e del garage mi intrigano un sacco Altrimenti possiamo potenziare il posto dei documenti falsi Altrimenti prendere addirittura un'altra attività Insomma Tantissime scelte Sarà figo Il prossimo episodio dell'online sarà davvero una figata E non vedo l'ora di farlo Comunque Dai Direi che ci possiamo fermare così Aspetta ho una cosa da dire Ho una cosa da dire Ok Che la leggo sempre nei commenti Ci dimentichiamo di dirla Ok I tatuaggi Sì Allora nelle challenge il tatuaggio non lo facciamo Perché è una cosa che teniamo solo per l'avventura online Esatto Quindi ci tenevo a precisarlo Perché poi ogni volta nei commenti ci dicono Vi siete dimenticati di fare il tatuaggio Capito? Invece in queste sfide non ci sarà Lo teniamo semplicemente per l'altra serie Sì perché è un gesto sacro di quella serie Sì esatto È la serie delle challenge E per le challenge non mettiamo in mezzo i tatuaggi Che altrimenti diventiamo un tappeto No altrimenti poi No no altrimenti poi è impossibile Penso che ne dovremmo cancellare Quindi la teniamo solo per l'altra serie Esatto Beh ragazzi Se vi è piaciuto lasciateci un like E se la prima volta che vi ho veduto il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima